Con il centro lampista bianco nero Lorenzo Lerri, Lorenzo partiamo innanzitutto se è un nuovo acquista arrivato nel corso dell'estate, come ti stai trovando Bianca Stagnario? Mi sto trovando molto bene sia con lo staff che con i giocatori, il Miestro gioca un calcio a cui mi piace molto, mi ci trovo molto bene Speriamo ora con il Covid che si riprenda presto a giocare, noi cerchiamo di far bene sempre pensando partita dopo partita, non guardiamo la classifica assolutamente, soprattutto ora che è presto Noi pensiamo, come ho detto prima, partita dopo partita di fare il meglio che possiamo Senti, per te finora ti aspezioni da subentrato, come ti stai trovando con i nuovi compagni di squadra? No, mi sto trovando molto bene, il Modelo è un Modelo che mi piace molto, spero di avere l'occasione anche di mostrare le mie carte, però cerco di migliorarmi sempre l'allenamento dopo allenamento e cercando di fare al meglio quello che chiede il Miestro Senti, te che vieni al settore giovanile dello Spezia, nella scorsa stagione sei mesi col Forlonica a Gavorrano, che esperienze sono state per la tua formazione? Allo Spezia mi sono trovato molto bene, sono stato a 13-14 anni, ho fatto tutto il settore lì, poi ovviamente si deve cambiare squadra, sono andato a Gavorrano, anche lì mi sono trovato fortunatamente bene, sia con i compagni che anche con lo staff Ora sono qua e cerco di fare il meglio possibile, sia per me che per la squadra Senti, te sei un giovanissimo, 2000, quali sono le tue caratteristiche principali? Io mi reputo un centrocampista offensivo, mi piace svariare molto tra le linee, mi piace toccare tante volte la palla, avere il più tempo possibile la palla tra i piedi Mi reputo uno qui piace molto imbucare, la palla oltre le spalle della difesa e diciamo che me la cavo bene anche sotto porta Per concludere c'è qualche calciatore a livello internazionale a cui ti ispiri? Il mio idolo è sempre stato Del Piero, essendo un tifoso della Juve E niente, ora mi ispiro, non mi ispira nessuno, il mio idolo come ho detto è stato Del Piero Poi mi piace molto comunque Isco, giocatori così comunque di qualità che giocano solo a tre quarti, molto tecnici, mi piacciono quei tipi di giocatori lì Poi?